Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Lavori di manutenzione delle corsie tramviare all'incrocio tra via Labicana, via Le Manzoni e via Merulana. Dalle 22 di questa sera e sino alle 4 di domani mattina verrà chiuso al traffico il tratto di strada compreso tra via Emanuele e Filiberto e piazza del Colosseo. In entrambi i sensi di marcia saranno deviate su percorsi alternativi le linee 51, 85, 87, N3D e N3S. Per il tram 8 le ultime corse saranno alle 19.30 circa dal capolinea di piazza Venezia, alle 20.08 dal capolinea del Casaletto. Dalle 19 verrà attivato un servizio di bus navetta. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti in tempo reale su Roma Mobilità. Punto iti